Nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, il prefetto di Sondrio, Salvatore Rosario Pasquariello, precisa che secondo le disposizioni introdotte dal DPCM non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni nei giorni festivi e prefestivi per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Quindi le attività possono rimanere aperte tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti farmaceutici, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché prodotti agricoli e alimentari. Nei mercati può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari.